Ciao a tutti, oggi vi presento un nuovo prodotto appena arrivato in erboristeria che è il Sonno OK, della linea Dietalinea. È a base di melatonina complex e a differenza degli altri prodotti contiene melatonina da 1 mg ma altri principi attivi tra cui GABA che è l'acido amminobutirrico, in più contiene anche degli estratti vegetali di melissa e anche di papavero rosso. Dunque va ad agire a livello di tensioni sia a livello fisico che emotivo e soprattutto va a regolarizzare il sonno, che sia il più vicino possibile a quello fisiologico. In più c'è l'estratto di mirtillo che la rende molto gradevole al gusto. Di diverso rispetto alle altre è che ha una nuova tecnologia che è la tecnologia Fizz Fraptek. Significa che ha un effetto frizzante in bocca, si lascia sciogliere direttamente una compressa prima di andare a letto direttamente sotto la lingua.